Ancora calcio, Pasquale Luiso è il nuovo allenatore del Chieti, sostituisce Gennaro Jezzo che si è dimesso dopo i deludenti risultati nelle sette giornate sulla panchina nero-verde. Domani il neo allenatore, noto con l'appellativo di Toro di Sora, dirigerà a Manoppello il suo primo allenamento. L'ex attaccante classe 69 ha vestito tante maglie, tra le quali quelle del Pescara, del Teramo e del Celano. Da allenatore è stato sulla panchina di Sulmona e Celano, nella stagione 2022-2023 ha guidato la primavera della Juve Stabia.